e ormai ovunque in tv al cinema a teatro e stasera l'artista più eclettico del quartiere madonnella sarà qui ospite a social night ma subito dopo questo filmato no ma perché io quando faccio la pasta al sugo non devo mettere il parmigiano devo mettere un formaggio più dolce certo un formaggio più dolce come il cacio ricotta il cacio ricotta bravi bravi che bello vivaldi bravi 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 comunque un'intuizione geniale non potevi scegliere il momento migliore per pensarlo e ti do il benvenuto giuseppe scoditti eccolo salve salve buonasera buonasera dove devo devi guardare ecco ciao ciao allora 192 centimetri di uragano qui in studio con una cinque 1 e 95 facciamo tutto da capo hai fatto un po di gobba no fa niente peraltro sì no da notare che proprio ieri manco a farlo apposta mi sono comprato questa lacoste dello stesso colore di questo studio l'ho pagata un vintage 15 euro un vintage che sta in via brescia consigliatissimo non mi ricordo il scenario no 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 non lo so vabbè comunque però andate e quindi guarda è perfetto poi c'ho le clarks questo pantaloncino così ho perso sei chili dall'ultima volta che sono venuto qui forse li ho recuperati ma come non so se li ho recuperati ora mi vedo e sembra che c'ho un po il il seno esatto esatto con la barba adesso mi guardo mentre farlo mi guardo però ti piace si vede dagli occhi sì dai non sono male non so noi parleremo davvero di tantissime cose io non non avevo incluso in questo discorso anche l'outfit però visto che ci siamo possiamo anche parlare del mio outfit assolutamente ma ne abbiamo parlato abbastanza mi piaccio mi piaccio cioè secondo me posso migliorare la mia forma fisica ancora beh sempre c'è tantissimo però dai non è ma c'è ecco sembra un po vecchio con questa polo tu che cosa vorresti dire a paolo sorrentino hai la possibilità di farlo adesso a social night fatto con uno spettacolo ho deputato a bari il 28 e 29 dicembre non sei venuto ma la mia gente ti ha messo i biglietti da parte non sei venuto l'ho replicato l'11 febbraio a molfetta alla cittadina degli artisti e nemmeno là sei venuto adesso io lo rifarò a milano il 13 il 14 il 15 dicembre a bari il 29 il 30 dicembre ea roma a marzo vieni io però so custodisco il segreto perché paolo sorrentino non è venuto a vederti ha sgamato quello che è il tuo vero idolo ezio greggio ma come scusa come sei farlocco perché ma perché che è zio greggio scusami scusa come facevi a saperlo vai spoiler ah ma ora tu sei straordinario tu sei straordinario non ero arrivata lì eh andrea bravissimo invece parliamo di no sta parlando bene di me sta parlando bene di me fallo fai dire allora finisci di dire sembra che se si deve partire un video cioè c'è anche quello ah ok no perché sei ancora in tempo per scappare no vabbè ormai mandalo ormai mandalo prima fatemi chiedere una cosa poi voglio dirti una cosa una cosa voglio dirti vai parliamo di 1 e 95 quando riprenderai il tour quest'estate sono in lombardia e a bari? sono nelle Marche sono in Umbria no però sono a Bari sono a Mola in una spinullido tra Cozze e Mola ci sta dove io la villa a Cozze ecco e poi c'ho una data a Bisceglie dove è la villa? eh? hai la villa mi comprerò una villa appositamente per la replica del resto i soldi li sto facendo eh trani trani vabbè un po' in giro insomma però l'ho fatto veramente tantissime volte 1 e 95 diciamo mi sono un po' scocciato di 1 e 95 posso dirlo? no vabbè non è che mi sono un po' scocciato però l'ho fatto circa 70-80 volte beh forse è arrivato il momento anche di tornare un po' agli origini un po' agli origini che sarebbero tornare a Parigi tornare a Parigi Riccardo Cocciante Riccardo Cocciante ma che cavolo dici Andrea Ravallese ma che stai dicendo? il gombo di Notre Dame ma ragazzi ma cos'è? vediamo l'esordio ma cos'è? no l'esordio di Giuseppe Scoditti lo stai mandando? no tutto nel tempo delle cate centrali la pietra ci fa come stavolo è fatto? non ci può credere verso le stelle scura e le trate sto impazzendo sto impazzendo come hai fatto a trovare quel video? lo voglio io non ce l'ho scioccate questi numeri Telebari ha i mezzi potentissimi allucinante grazie al mio cugino Riccardo no Riccardo ma infatti non ci voleva molto è scioccato da quanto tempo non vedevi questo video? boh da vent'anni ah ecco è così che hai fatto breccia nel cuore di Nanni Moretti di la verità Nanni che ama il musical peraltro quindi non so in effetti se a Nanni gli piace il musical alla Riccardo Cocciante non lo so non lo so la prossima volta che ci parlo glielo chiedo è un po' più da Webber forse da? Webber Lloyd Webber che significa? Cats you know ah Cats il musical Cats ah il musical Cats scusami perché mi hai preso? madonna no scusami no è che io sono molto scarso sui musical l'ho notato io ho anche messo il colore della tua stessa maglietta senza volerlo wow no ma mi hai sconvolto con questa cosa del Notre Dame de Paris prima di parlare di Nanni Moretti che avete menzionato io parlerei dell'esperienza con per Coco sì bellissima il primo mostro di Italia stupendo il mio primo film esatto un film bellissimo tratto da un romanzo bellissimo una storia vera che è successa nel mio quartiere tra l'altro dietro casa mia e io ho interpreto un personaggio esistito veramente nel 1956 con un altro nome che però frequentava quel quartiere quindi insomma è stato è stato bellissimo è stato il mio primo film ho imparato a guidare la lambretta ah che meraviglia ho fatto la mia prima scena di sesso ho indossato dei vestiti bellissimi anni 50 e quindi diciamo ringrazio tantissimo Pierluigi Ferrandini che mi ha coinvolto e che ha scritto a quanto pare il personaggio su di me e quindi è stato un onore poter raccontare una storia così mamma mia invece invece Nanni Moretti ha scritto per te il ruolo del cineasta in erba il giovane regista dico bene e allora vediamo uno dei momenti più iconici del Festival di Cannes vediamo ciao voglio vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa voglio vederti danzare come i dervish che girano sulle spine dorsali o al suono di cavigliere del catacali e gira tutti intorno la stanza mentre si danza danza e gira tutti intorno la stanza mentre si danza e radio tirana trasmette musiche allora dicci un po' quello che ci stavi dicendo quella che si vede la scalinata dove Nanni e tutto il cast fa il derviscio esatto è la montée de marche che praticamente sarebbe la scalinata del red carpet di Cannes praticamente c'è tutto il red carpet e poi il red carpet a un certo punto si trasforma in questi gradini che accompagnano le persone all'interno del palais du festival e quindi praticamente la tradizione è proprio questa che si fa il red carpet si sale ecco questi gradini qua ci si ferma si fa la foto e poi si entra in questo cinema enorme gigantesco vabbè qualche gossip chi ha incontrato qualche selfie oh ma ti posso dire la verità devi ma si possono dire le parolacce eh purtroppo no Wim Wenders un vecchio di merda mamma mia potevo dirla questa cosa si è comportato male no vabbè però io speravo di incontrare Scarlett Johansson Kate Blanchett invece no c'erano tutti c'erano tutti Wim Wenders un vecchio sfigato bene sta scherzando no sta scherzando devo dire sempre la posizione dove mi sto sto meglio allora ora vogliamo sapere un po' si sta incazzando si si sta arrabbiando ma quando vai vai scusami mi piacerebbe comunque entrare un po' nel dettaglio vai chiedimi tutto quello che vuoi da quando Nanni Moretti ha deciso che tu saresti entrato nel cast per interpretare quel ruolo fino alla fine l'ho pagato dai eh cosa l'hai pagato tantissimi soldi ci sta tantissimi gelati lui ama i gelati è vero? si adora 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 allora raccontaci un po' cosa ti devo dire? un po' di retrosceno qualche aneddoto beh allora momento simpatico momento simpatico innanzitutto il video di presentazione che io ho fatto perché io ho saputo che lui stava facendo i provini per il film dai miei colleghi attori e quindi ho detto scusa ma è assurdo che io non so del provino con Nanni Moretti cioè io voglio fare un provino con Nanni Moretti ho chiamato la mia gente Donatella Franciosi che immediatamente ha chiamato ha contattato la casting director e la casting director di Nanni ha detto va bene vediamo un video di questo ragazzo io ho fatto un video un self tape si chiama così e in cui gli ho dichiarato tutto il mio amore senza nessun filtro proprio in maniera spudorata io sono un fan accanito di Nanni Moretti abbiamo fatto il provino e quindi lui mi ha detto vieni a fare il provino ho fatto tre provini e poi un giorno mentre stavo girando per Coco mi chiama al telefono e mi chiede Giuseppe senti a me francamente mi piacerebbe che tu facessi parte di questo film ti interesserebbe ma come io sono scoppiata a piangere su veloce veloce quindi non te la sei tirata per niente ma che cosa mi dovevo tirare non hai chiesto il cachet senti ma quanto mi dai perché non so se voglio non so se voglio no no ho detto ma a qualunque anche gratis veramente però non fate queste cose fatevi sempre pagare il lavoro e nobilità all'uomo esatto e quindi poi lui non sapeva che ruolo farmi fare non c'era un ruolo per me all'interno del cast e quindi lui ha praticamente trasformato un personaggio l'ha ampliato e me l'ha scritto addosso dai che meraviglia quindi un grande no non so un grande onore un grande onore però per continuare questo percorso stellare come direbbe Valeria Marini all'interno del mondo del cinema noi abbiamo da chiederti un nuovo provino ci interpreteresti per caso per cortesia questo pezzo di drammaturgia recente della storia italiana ovvero l'ultimo tormentone di Fedez J-Ax e Annalisa ok va bene in camera si comunque scusate posso dire una cosa certo veramente visto che non gli hai detto no infatti esatto no cioè io sono veramente fuori dal mondo cioè questa canzone è famosa no ma è uscita da pochissimo non è ancora diventata una ah ok perfetto mi sta già guardando male lui sei fuori dai giri bro sono fuori di te ok vado tu sfili sulla spiaggia come Gigi Hadid vuoi vincere stravincere se penso al mio futuro vado in panico l'ansia fa su e giù tipo yo yo come tutti gli italiani all'estero l'anno prossimo non voterò alza il finestrino che stoniamo battisti mi ritorni in mente wow 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 me telefono a te ora ad aspettare poi mi da occupato perché chiami anche tu bolle di sapone sotto il tuo balcone mi piace tanto quando mi annoio eh tu mi fai la disco paradise stasera che mi fai? eh che mi fai? che mi fai? la disco paradية la disco paradية da Dice tiè è stato un grande momento di televisione molto, moltissimo capire come mi devo mettere su questo ma ormai ci siamo già rovinati non saranno quegli ultimi minuti Maricla vai adesso io cercherei di riprendere un po' di segretà ma sarà impossibile riprendiamola voi fate le domande e io rispondo io parlerei a questo punto visto che comunque il tempo sta per terminare nooo no è volata questa intervista è volata non può essere così breve ogni volta Maricla allunga il tempo cancellate tutte le interviste che ci sono in questo programma vai allora parlerei come dicevo dell'esperienza in tv quella che stai facendo Barstella esatto bellissima stupenda che basta chi è il prossimo Stefano De Martino scusate ragazzi io vorrei fare un attimo un appello a Telebari ma adesso che il Bar no adesso che se il Bari vince e va in Serie A avete già lo Stefano De Martino che deve fare la celebrazione allo stadio San Nicola Andrea Ravallese è perfetto è il nuovo Stefano De Martino di Bari peccato che qua mi caccano di strema ma non è possibile ma io mi incavolo cioè comunque volevo far notare mi incazzo è una cosa che a casa non riescono chiaramente a vedere ma il nostro tecnico Fabio ci ha dato l'ok per proseguire per altri 4 giorni non so se che vuol dire 4 giorni e beh ti sto chiamando che stesse per finire l'intervista adesso grazie Fabio e mo sono vabbè tanto voglio dire adesso sarai segregato qui negli sudditi dai Giuseppe tornerai cioè quindi è finita così sì ma no fai un'altra domanda vai Barstella ti do la possibilità di bellissimo un programma bellissimo sono felice sono col mio gruppo contenuti zero e Carlo Amleto non ci ha risposto alla richiesta di intervista quindi l'importante è che ce l'abbia risposto ma veramente non vi hai risposto sì ricordiamo che domani non ci siamo un po' incavolati perché c'è lo sport aspetta aspetta perché perché io volevo fargli mandare la pubblicità anzi sai cosa gliela faccio mandare dopo questo filmato ma io gliela farei mandare anche in questo programma così poi potrà essere ripostato dalle pagine che dice Andrea secondo te di cosa stai parlando della pubblicità beh ma scusami perché mi hai preso quello Giuseppe Scodini dai ma non ci voleva niente signori e signori ecco a voi set trent venticinque no quanti dimmi tu qui quindici spot noi ci vediamo domani telebari social night finisce qui scusate per aver sforato per aver fatto un gran casino ci vediamo domani no domani non ci siamo c'è lo sport domani non ci vediamo come non ci vediamo come non ci Grazie.